Ciao a tutti, oggi per Secret London vi porto a visitare Greenwich e non Greenwich, mi raccomando, venite con me! Raggiungibile in battello, metropolitana o bus, Greenwich si estende al sud-est del centro di Londra ed è come un piccolo villaggio, dà l'atmosfera ad altri tempi e ricco di cose da vedere Suggestivi i palazzi in stile vittoriano, incantevole il parco con il famosissimo osservatorio e il meridiano e merita una visita anche al Museo Marittimo Ma adesso è ora di gironzolare tranquillamente tra le viette pittoresche del borgo zeppe di pub, caffè, boutique dall'area vintage e tanti tanti negozietti curiosi L'attrazione principale è il meraviglioso Greenwich Market che comprende tre mercati, quello dell'antiquariato e dell'artigianato, il Village Market e il Central Market Tenete a mente che il martedì, il giovedì e il venerdì sono dedicati all'antiquariato mentre i weekend sono per l'artigianato Mercoledì è il giorno delle cose per la casa mentre gli stand col cibo da tutto il mondo sono sempre presenti Per questa settimana la nostra esplorazione termina qui spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete mi piace lasciatemi un commento e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale Grazie, ciao ciao, alla prossima! Ciao, ciao!